Brutto stop per la Virtus Biella. Se la sconfitta al tiebreak contro il Legnano della scorsa settimana era assolutamente accettabile, il netto Capitombolo con Parella lo è meno. Nell'omonimo quartiere torinese le ragazze di coccio Stefano Colombo crollano senza appello. 3-0 per le parelline con parziali netti e 14, 19 e 17 punti. Una sconfitta stranamente pesante per Biella, che non si giustifica con il solo infortunio di Capitana Mariottini. Nella seconda set avevamo ora drizzato la linea di ricezione, l'abbiamo messa in difficoltà ma poi è arrivato l'infortunio di Cristina e non ha aiutato, così coccio Colombo. Soprattutto da un punto di vista morale, non abbiamo battuto come loro, la differenza è stata lì e in ricezione. Miriam Elajam, ancora una volta la migliore realizzatrice, unica in doppia cifra con 11 punti, ha parlato invece a nome del gruppo. La cattiveria l'abbiamo lasciata a casa. Il problema è l'inerzia, c'è rammarico, sono molto dispiaciuta perché non siamo riuscite neanche a divertirci, eravamo mentalmente altrove. Al tiebreak invece il team volley centra l'ottava vittoria in altre tante partite, superate anche le verbanesi di Rosaltiora al termine di una partita ricca di ribaltoni. Il distacco in classifica sulla seconda rimane sui tre punti tondi. A proposito di belle notizie, si terrà domani nella sala del consiglio del comune di Biella la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Bervul Volley, il maxi torneo di pallavolo giovanile che si giocherà a Biella dal 3 al 5 gennaio. Un appuntamento classico delle vacanze di Natale, sempre attesissimo dagli atleti e dalle atlete attraverso le generazioni. Saranno come sempre il presidente Ezio Germanetti e la vicepresidente Giussi Cenedese a illustrare nel dettaglio la nuova edizione, che ritorna dopo lo stop forzato causa pandemia dello scorso anno.